tutti ragazzi bentornati in un nuovo video sempre di l'opiparo trovate in descrizioni tutti i contatti del negozio per poter contattare e vedere un po i vari oggetti che sto recensendo allora cosa abbiamo qua un altro prodotto della true utilities un altro gengino molto carino che è una lente scusate una torcia per le chiavi intanto la scatola che chiaramente rimane una scatola in plastica waterproof che può essere usata molto comodamente anche quella allora andiamo ad aprire ovviamente c'è la guarnizione intorno alla plastica all'interno avremo la chiave e soprattutto il libricino con tutti gli altri accessori che produce questa azienda però va bene questi poi ve li guardate e sono molto molto carini la chiave invece è una diciamo che è una torcia molto molto semplice molto molto carina ma come potete vedere si avvolge completamente una chiave ed è indispensabile soprattutto per quando si torna a casa la sera ed è tutto molto molto buio che non si trova il buco della serratura mettiamola così come potete vedere comoda si attiva molto semplicemente è un monoled un led piccolino che però fa diciamo abbastanza luce chiaramente al buio adesso io qua le luci puntate sono molto forti però devo dire che se si spengono le luci diventa un accessorio molto molto comodo ha già i suoi due gancetti montati ed è molto facile anche da assemblare perché basta aprirla inserire la chiave richiuterà molto molto carino è un accessorio anche questo veramente veramente caruccio sempre in ambito everyday carry e dc bene ragazzi qua la recensione finisce perché l'oggettino è molto piccolo ricordo che ci sono tutti le indicazioni del negozio sotto e basta se avete domande fatele se no iscrivetevi al canale ci saranno tantissimi altri video grazie e alla prossima grazie a tutti